...dello sport medio carina, in Romagna ringrazio per la partecipazione. Tra pochi stanzi avrà inizio l'incontro di pallamano, Romagna è il buon conto Ambra. Ottavo incontro di ritorno del campionato nazionale Serie A, Girone B. Gli sponsor, Euromo e Allevamento Folli sono lieti di presentare le formazioni in campo. Per la pallamano Ambra con il numero 17, Pallighi. Con il numero 10, Benino. Con il numero 14, Cardiniani. Con il numero 77, Chiaramonti. Con il numero 7, Di Stefano. Con il numero 5, Di Marcello. Con il numero 23, Di Marcello. Con il numero 13, Maraldi. Con il numero 22, Mannoli. Con il numero 73, Faggi. Con il numero 6, Pienazzi. Con il numero 16, Vinci. Con il numero 23, Piazzotti. Con il numero 9, Alpenas. Allenatore, Galluccio. Piazzotti. Piazzotti. Con il numero 21, Giancarlo Sani. Con il numero 1, Luigi Maramasi. Con il numero 9, Rinaldo Ceroni. Con il numero 15, Emanuele Panetti. Con il numero 23, Matteo Camina. Con il numero 10, Piazzotti. Con il numero 10, Piazzotti. Con il numero 10, Piazzotti. Emanuele Panetti. Con il numero 4, Piazzotti. Con il numero 4, Piazzotti. Con il numero 14, Matteo Pelli. Con il numero 20, Andrea Dallaglio. Nel numero 11, Dabiene Corsi. Con il numero 17, Fabrizio Massinari. Allenatore, Domenico Massinari. Emanuele con l'incontro, il signor Colombo Di Romigo e Fabiano Di Padova. A tutti, un gran divertimento. A tutti, un gran divertimento. Emanuele con l'incontro, il signor Colombo Di Padova. Doctato con il numero 13, Bergamo Di Padova. Emanuele con l'incontro,азывainivo l'incontro, iscriviti pel Miss l'incontro,ivers�نale. Ilignezio Calle-Vitre. Grazie. Grazie. Non penas. Grazie. 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 Vai, piccoli. Vai. Grazie. 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 Grazie a tutti! 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 Oh, oh! Come on! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Di Marcello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.